E' già domenica mattina, purtroppo, sì, purtroppo perché nonostante tutto anche oggi è una bellissima giornata di sole, abbiamo fatto tre giorni meravigliosi. Se guardavamo, se torniamo un po' indietro col tempo, se era l'undi e martedì magari oggi ci doveva essere un po' più di temporale, un po' più di pioggia in questi giorni, ma invece è andata alla grande. Il sole ha baciato veramente questo sedicesimo raduno nazionale, ha baciato il Giro Mania, ha baciato il T-Max Club. Adesso i ragazzi si stanno preparando, stanno ricaricando tutte le borse, stanno facendo il check-out, le ragazze raccolgono i soldi per il pranzo tutti insieme, che nonostante tutto quello che c'era da programmare, da gestire, i ragazzi della Romagna hanno voluto comunque portarci a pranzo in un bel ristorante qui sui nostri colli romagnoli. Ragazzi, è l'ultimo saluto, ma vediamo, magari facciamo un altro video sul ristorante. Dal tubone della Yamaha, dall'Eurotermid Bani di Romagna, anche quest'anno il sedicesimo raduno nazionale. Ciao ragazzi!